Se ti concentri sul consumo di alimenti naturali e integrali, finirai di conseguenza a mangiare meno alimenti raffinati e industriali. Il problema degli alimenti industriali non è che causano intrinsecamente un aumento di peso, per quello ci vuole sempre un eccesso calorico. Il vero problema è che questi alimenti sono progettati per essere super appetibili e quindi è facilissimo mangiarne in eccesso. Per esempio, questo studio condotto da Kevin Hall ha randomizzato i partecipanti a consumare per 14 giorni una dieta ricca di alimenti raffinati, composta principalmente da cibi come patatine, bibite, caramelle, oppure una dieta basata su alimenti naturali. Le due diete erano identiche per calorie, zuccheri, grassi, fibre e macronutrienti, quindi dal punto di vista nutrizionale nessuna differenza. Tuttavia, anche se i ricercatori hanno controllato tutte queste variabili, i risultati mostrano che i partecipanti che seguirono la dieta ricca di alimenti processati consumò in media 500 calorie in più al giorno rispetto alla dieta a base di alimenti naturali e integrali.